Ciao a tutti e bazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Manu Manu e come ogni domenica siamo sull'appuntamento settimanale di Notizie Nerd ed anche per questa domenica sono riuscita a fare in tempo e a raccogliere le notizie, scriverle, registrare il video che state vedendo e montarlo. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere quali sono state le dieci notizie più importanti della settimana appena trascorsa e come sempre le vediamo subito dopo la sigla Sta per arrivare il nuovo episodio di uno dei picchiaduro che ha segnato la storia dei videogiochi di questo genere ovvero Tekken 7 e saranno tante le cose sulle quali potremmo mettere le nostre piccole manine da lottatori virtuali. Ci sarà la Collector Edition di Tekken 7 che conterrà la Deluxe Edition con Season Pass, una figurina di Kazuya in posa mentre colpisce con un calcio a mezz'aria, una speciale steel box e la colonna ufficiale di Tekken 7. Il Season Pack di Tekken 7 appunto ci consentirà di scaricare dei nuovi livelli, dei nuovi giocatori, delle nuove modalità di gioco e un pacchetto di ben 35 costumi metallizzati. La versione per PlayStation 4 includerà inoltre anche dei costumi che vengono dalle edizioni di Tekken 4 e Tekken 2 per King e Jin nonché una modalità jukebox tramite la quale i fan potranno ascoltare tutte le tracce originali di Tekken e addirittura costruire una propria playlist da ascoltare poi durante il gioco. Ed infine per chi preordinerà il gioco ci sarà a disposizione un ulteriore regalo ovvero un DLC di Elisa e per i preorder invece che arriveranno dalla Xbox Store ci sarà un ulteriore regalo ovvero la versione, la copia gratuita di Tekken 6 giocabile grazie alla retrocompatibilità. Il settimo capitolo del franchise Namco sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 2 giugno del 2017. Ormai manca davvero pochissimo all'esordio sui piccoli schermi di uno dei mutanti più potenti del mondo Marvel. Sto parlando di Legion che grazie alla collaborazione tra i Marvel Studios e la Fox avrà una serie tv tutta sua, serie tv che ci farà scoprire le origini di Davide Holler e per pubblicizzare l'arrivo di questa serie tv, come se ce ne fosse bisogno, in rete sono stati pubblicati alcuni scatti ufficiali tratti dal set che mettono in mostra i protagonisti e soprattutto il protagonista della serie tv che sarà Dan Stevens che ha interpretato anche la bestia in La Bella e la Bestia e che in questa serie tv appunto vestirà i panni di Legion. La serie sarà ambientata nell'universo degli X-Men e farà il suo debutto sui piccoli schermi l'8 febbraio. Rimaniamo ancora nel mondo Marvel perché è stato ufficializzato direttamente dai Marvel Studios l'inizio delle riprese di Pantera Nera. Nel nuovo film rivedremo Boseman nei panni di Pantera Nera, l'attore ha già interpretato questo personaggio in Capitan America Civil War e sarà in ottima compagnia, infatti il cast è pieno zeppo di nomi molto noti tra cui spicca per quanto mi riguarda il nome di Martin Freeman, famosissimo sempre per quanto mi riguarda per aver già recitato nella trilogia di Lobbit e soprattutto per aver dato il volto a Watson nella serie di Sherlock. Il film sarà basato sul personaggio dei fumetti Marvel apparso per la prima volta in Fantastic Four pubblicato nel lontanissimo 1966 e uscirà nelle sale cinematografiche a febbraio del 2018. La quarta notizia forse non è proprio del tutto nerd ma io spero, cioè immagino, e spero che venga apprezzata da tutti o almeno dalla maggior parte dei webbazzi. Infatti la Illumination Entertainment e la Universal Pictures hanno ufficializzato che ci sarà il sequel dei Minions. L'unico dettaglio che è stato svelato è la data di uscita che è il 3 luglio del 2020, ma in attesa del film interamente dedicato a loro potremmo rivedere i simpatici e incomprensibili omini gialli nel nuovo film Cattivissimo Me 3 che uscirà nel corso di quest'anno. In rete è stata annunciata una collaborazione del tutto particolare tra Square Enix e la Marvel. Sì, lo so che è la terza notizia dal mondo Marvel ma giuro che è l'ultima. E questa collaborazione ci porterà una serie di videogiochi ambientati appunto nel mondo dei supereroi. Il brevissimo filmato che si può vedere in rete ci fa dedurre che il primo videogioco sarà dedicato agli Avengers e il team di sviluppo che si occuperà di questa serie di videogiochi sarà il team del Crystal Dynamics che è lo stesso team che si è occupato degli ultimi capitoli di Tomb Raider. Non ci sono altri dettagli ma come sempre ed ovviamente vi terrò aggiornati. Su Steam è disponibile il gioco Deus Ex Breach che è la versione free to play di Deus Ex Mankind Divided. Questa modalità offre delle dinamiche di gioco che sono un mix tra il puzzle game e lo sparatutto. È ambientato nel 2029 e vestiremo i panni di un hacker che ha il compito di rubare e vendere dei dati segreti aziendali. Si potranno accumulare dei punti che poi serviranno per l'acquisto di nuovi equipaggiamenti e di nuove armature che potranno poi essere agganciate al nostro avatar. Oltre alla modalità single player è molto interessante invece la modalità multiplayer competitivo dove ovviamente i nostri equipaggiamenti e le nostre armature faranno la differenza nelle battaglie. Se amate gli sparatutto credo proprio che sia da provare a maggior ragione perché è gratuito. La settima notizia è una notizia flash ed è dedicata a tutti gli appassionati di Dragon Ball e che in più amano gironzolare tra i padiglioni delle fiere del fumetto. Infatti è stata confermata la presenza di un grande mangaka al prossimo Comic Con di Napoli. Faccio una piccola parentesi, per chi non lo sapesse l'anno scorso noi webass eravamo presenti lì al Comic Con di Napoli e abbiamo fatto un po' di interviste varie ai cosplay, quindi se ve lo siete persi e vi va di rivederlo vi lascio il link in descrizione. Tornando alla notizia, il mangaka che sarà ospite alla fiera di Napoli sarà Toyotaro che è l'autore del manga Dragon Ball Super, una serie animata nata come sequel del celebre Dragon Ball Z. Il Comic Con di Napoli si terrà dal 28 aprile al 1 maggio. La DC Comics e la Gazzetta dello Sport hanno lanciato una nuova collezione che sicuramente farà piacere a tutti i fan super spiegatati dell'uomo pipistrello. Infatti proporrà una collezione di Batman nella versione anni 60 che comprenderà 17 DVD ed inoltre anche 3 ore di contenuti speciali. La data di uscita del primo DVD è prevista per il 9 febbraio e costerà 4,99 euro. Da giovedì scorso, 26 gennaio, è disponibile sui dispositivi mobili Android e iOS il nuovo gioco One Piece Thousand Storm, rilasciato dalla banda in Amco e scaricabile gratuitamente. Si potranno giocare anche battaglie in multiplayer con al massimo 3 amici e si potranno far crescere i nostri personaggi grazie alle scene card che sono originali dell'anime. Ovviamente l'ho scaricato subito, però non posso darvi il mio parere perché ancora purtroppo non ho avuto tempo di giocarci. La Toy Animation ha annunciato il film sul super famosissimo Mazinga in occasione del suo 45esimo compleanno. Mazinga è il capo stipide dei robot pilotati da umani ed è stato ideato dal grande Gonagai. Non sappiamo ancora molti dettagli quindi né se sarà un film né se sarà un film live action ma potremmo, sicuramente avremo molte più informazioni dopo il 26 marzo quando verrà presentato in modo ufficiale il film all'interno dell'anime Japan 2017 che si terrà a Tokyo. Ed anche per questa domenica l'appuntamento di Notizie Nerd finisce qui. Io come sempre mi auguro che le notizie che ho raccolto con gran fatica per voi vi siano piaciute se è così fatemelo sapere con un like o con un commento. Iscrivetevi se non siete iscritti, seguiteci anche sul canale Telegram e noi come sempre ci vediamo la prossima domenica. Ciao e pazzi!